Anche la provincia di Sernia dice no all'impianto a biometano a Pozzilli. Il parere negativo da parte dell'area tecnica dell'ente di Via Berta arrivato in sede di conferenza dei servizi va di pari passo con un'analoga pronuncia del comune e del consorcio industriale di Pozzilli. In quel caso, nella doppia veste di sindaco e presidente dell'ente consortile, Stefania Passarelli era insorta all'idea di un simile impianto in un'area popolata e ricca di attività commerciali, la frazione di Triverno, circa 150 ai residenti. Oltre agli odori nauseabondi, sollevata la questione salute pubblica. L'errore che in passato è stato commesso dagli enti e dalle amministrazioni che nei vari enti amministravano è stato proprio quello di in qualche modo consentire l'atterraggio di impianti impattanti da un punto di vista ambientale che magari in quel momento potevano sembrare anche poco invasivi o in qualche modo tollerabili e questo ha comportato poi nel tempo un aumento dell'impatto, un aumento del peso sull'ambiente e quindi un contesto come quello con cui ci scontriamo e ci confrontiamo tutti i giorni. Vede se noi pensiamo che gli impianti di incenerimento che abbiamo oggi nella piana di Venafro, nei territori dei comuni limitrofi a Venafro sono impianti in qualche caso nati con autorizzazioni per bruciare piccoli quantitativi ma poi progressivamente partendo da quei piccoli quantitativi le autorizzazioni sono state via via dilatate. Perché questo? Perché quando in qualche modo gli impianti atterrano poi diventa complicato limitarli o quantomeno richiede degli studi e delle analisi molto complesse. Ecco, credo che quegli errori commessi in passato oggi non vadano ripetuti e che quindi in una logica di precauzione in una logica di prevenzione si debba evitare di introdurre nella piana di Venafro ulteriori fattori di pressione ambientale. Insomma, su questa questione, almeno su questa questione la sinergia con il sindaco di Pozzigli e presidente del consorzio industriale Passarelli è massima? Ma noi abbiamo sempre, devo dire, come comune di Venafro e come provincia di Sernia espresso delle posizioni, sicuramente da quando io sono alla guida di questi enti e quindi quando vedo che anche altri enti adesso stanno abbracciando questa battaglia a difesa del territorio, come devo dire anche da un po' di tempo stiamo condividendo alcuni impegni, non può che farmi piacere. Sicuramente il fatto che la scelta che come amministrazione abbiamo compiuto da tempo al comune e alla provincia di andare in una certa direzione oggi sia condivisa anche dagli altri enti che sono sul territorio non può che farci piacere. Più c'è una condivisione istituzionale, maggiori sono le garanzie di risultato. Grazie. Grazie.